Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui Gio dovete ancora imparare ad abbassarsi. Come vedete oggi siamo qui in tre, finalmente riusciamo a fare un video con la bimba a sveglia per presentarvela. Ecco qui Minerva Aurelia, futura nottrice, ma anche già adesso in realtà. Come vedete un po' sempre molto imbronciata come la mamma giustamente. Niente, oggi è un video un po' così chiacchierisce, molto veloce, perché come avrete notato sono un po' rimasta indietro con la creazione di contenuti per proprie ragioni. Per creazione di essere umano. Per creazione di bambina e gestione della bambina, perché ovviamente richiede tante. E lo stesso cosa devo dire io col blog che dal 4 agosto che non pubblico più niente. Comunque adesso io in teoria oggi sarei dovuta essere a casa, in realtà non lo sono. Ci andrò prossimamente, fra qualche giorno. Giovedì. Quindi naturalmente ancora non ho dei contenuti e non ho modo di crearli, perché adesso sapete il periodo di TBR e cose del genere, ma io il gioco della TBR ormai ce l'ho a casa, perché in teoria appunto sarei dovuta essere là e non ci sono. Ribadiamolo tutti insieme. Avrei dovuto essere a casa, ma non ci sono. Quindi insomma c'è questo ritardo di creazione, ma comunque tra quelli che arriverà tutto appena possibile e mi auguro anche nel format più consono al nostro modo di fare video. Invece io e il blog sono rimasto ancorato all'ultima recensione, che se non era del 4 agosto. Da allora ho letto circa una quindicina di libri, ho già indietro di una decina. Diciamo che ho più di 20 libri da recensire. Ecco io per recuperare, è ovvio che non riuscirò mai a recensirli tutti, anche perché nel frattempo la mia attività di lettore va avanti e quindi ho un'idea quella che tenterò nei prossimi giorni, impegnandovi un pochettino, rubando spazi alla vita familiare, che come vedete sono molto risicati, mi farò questa ventina di lettura, farò magari tra due o tre articoli riassuntivi. Ognuno di ognuno parlerò rapidamente di 4 o 5 libri, in modo tale da tornare a regime e poi quando torneremo a casa si spera di riuscire a una sorta di normalità anche nella scrittura e le recensioni, uno ogni tanto, perché questi due mesi sono stati ovviamente dedicati a cose più importanti dei libri, alla signorina qui, che non mi sembra molto interessato ai nostri discorsi, però, dice, papà io mi interessa di mangiare, di dormire e fare la cacca, altro non mi interessa. Esatto, il politico, fare la nanna la cacca e... Nanna cacca e papà. E va bene, va bene, va bene, va bene, quindi guardate che bella bimba, l'abbiamo già portata un paio di volte in libreria, sembra abbastanza a suo agio le corsie della Feltinelli, della Giunti, dove l'abbiamo portata, le abbiamo preso anche un po' di cose in libreria, le faremo vedere prossimamente, abbiamo preso un librino di quelli di tessuto, con cui... Poi ci hanno regalato uno di quelli in cartoncino, poi abbiamo preso un set di giochi di Munari, sempre libreria, ci sono quelli per sviluppare l'udito, la manualità... Il fatto, la vista, la presa... E quindi anche lei sta iniziando la sua strada da futura grande elettrice... Da youtuber... Era qui, che bella, che bella... E vabbè, dai, questo è riassunto, quindi mail... Non siamo spariti... No, no, dobbiamo solo un attimo... Riorganizzarci, esatto... Quindi mail riprenderà col... Riprenderemo tutti e due, non so... Tutte e due... Con i soliti video... Io quel blog riprenderò... E vediamo di... Di tornare a... A deliziarvi con le nostre letture, tra virgolette deliziarvi... Vabbè, che dire d'altro... È stato un video interlocutore, molto bello... Si, così, giusto per darvi un aggiornamento, farmi presentare soprattutto la bimba... Se siete arrivati fino a qui, dite... Minerva ha fame... Di nuovo? Appena mangiato... Appena mangiato... Allora, Minerva ha sonno... Minerva ha sonno... Perché ha appena mangiato... Vedete che... Le sta calando la palpebra... Sembra uno di quei messicani... Che si mettono lì col sombrero... La siesta... La siesta... È ora della siesta... Vero signorina? Stai sbarucchiando un pochettino... Ah... Eh, dimmelo... Io non vedo... Eh, vabbè... Proprio un po' di bava... Cos'oggi sia... Va bene... Salutiamo tutti... Vi saluto io... Vi saluto Amelie... A chi vi saluta... ciao ciao amici ciao a presto ciao